A me stasera sembrava di essere più che da Floris da Crozza, perché se non fossimo in prima serata direi che Conte ha la faccia come il culo, nel senso che lui parla di incoerenza, cioè Conte parla di incoerenza, uno che ha attraversato le alleanze politiche più disparate, destra, sinistra, pur di governare, uno che in campagna elettorale diceva no Tav e no TAP, e poi ci sono stati la Tav e la TAP, uno che ha aumentato le spese militari dell'Italia insieme al suo ministro Speranza e poi adesso oggi ha votato contro l'aumento delle spese militari, uno che ha fatto dei disastri nell'Arabile sul Covid insieme al ministro Speranza che ci hanno lasciato senza mascherine, con una campagna vaccinale approssimativa, viene a dare lezioni di coerenza? Vabbè, insomma, siamo da Crozza.